Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Da settimane Papa Francesco si è mostrato affaticato e impossibilitato a parlare in pubblico. Anche nell'ultima apparizione, la messa per la Domenica delle Palme, il Pontefice ha attirato l'attenzione del pubblico per lo stato in cui è apparso. Delle condizioni del Santo Padre ha parlato Sergio Alfieri, il medico che lo ha operato all'addome due volte negli ultimi due anni, in un'intervista al Quotidiano Il Corriere della Sera. Queste le sue parole. E un uomo di 87 anni con enormi responsabilità, è normale che attraversi momenti di affaticamento, non mi risultano situazioni di preoccupazione. Il Santo Padre sta bene compatibilmente con l'età e le sue episodiche difficoltà respiratorie nei periodi più freddi, anche per il pregresso intervento polmonare subito molti anni addietro. Non lo vedo tutti i giorni ma posso assicurare che non ha malattie particolari. Si sottopone a controlli periodici. Questo è un sospiro di sollievo per i fedeli, ma secondo voi è la verità?